La grandezza di questo paese non è nelle piazze, non è nelle chiese, non è Roma di Marmi, Fontana e Potere, nel Milano tradita da chi se la beve, non è Genova o Taranto, signore dei mari, non è Napoli e questo è persino più grave, non è più divertente tirare a campare, soprattutto non è più ricinare. Se hai voglia a cercarla tra i mille canali, sia su quelli analogici, sui digitali, Ma non serve aumentare la definizione per vedere più grande un coglione.